Ciao a tutti, vi stimo e vi incoraggio, io farei vedere il gatto che è un po' il protagonista di tutto, eccezionale, non riesco ad essere concentrato, ma parliamo di qua, giusto? Perché la domanda è, posto che io le so, tutte, la domanda è... Cosa dici del Fantini Club? I Fantini sono fantastici, io li ho visti sempre sui cavalli ma adesso sono scesi e a questo punto hanno organizzato il mondo, quindi io fra poco itinererò, itinererò, che è anche i Fantini, vado di qua, vado di là, mi stimo, mi incoraggio, le so tutte, ta-na-na-na, fu-fu, e vado. E allora un saluto a tutto lo staff, uno per uno, quindi, mi stimo e mi incoraggio, Fabrizio e Montana, ciao! E una carezza al gatto? Al gatto, ciao, grandissimo, ci vediamo dopo, ciao, che bello, c'è anche la barba, il gatto con la barba, eccezionale, scusatemi, io devo andare, è troppo bello qua.